In corsivo si dice Ciao Ammi, come state? Di recente avrai sicuramente sentito un sacco di gente parlare così Ma perché? Perché è bello! Questo è il corsivo, la nuova lingua nata per prendere in giro l'accento milanese Ma io non sono milanese, Ammi o... Lo so, infatti la cosa si è diffusa un po' dappertutto Quando durante una puntata del collegio due ragazze hanno iniziato a litigare con uno spiccato accento lombardo Ma secondo te ero lì tranquilla mi fai cadere a caso? Da lì in poi il panico Solo nell'ultima settimana l'hashtag corsivo ha superato i 30 milioni di visualizzazioni Anche grazie alle lezioni della prof Elisa Esposito Eccomi Che è stata invitata addirittura in tv a tradurre i discorsi di Giorgia Meloni Famiglia naturale Ma veramente? Per non parlare dei cantanti che cantano in corsivo Come Madame, Blanco, Da Supreme, San Giovanni Non volano farfalle, non sto più nella pelle Grazie a tutti Grazie a tutti